Affideresti mai la tua salute ad una persona senza la laurea e non abilitata alla professione? Ciao sono Gianmarco Sono Patrizio Ciao sono Luca Sono Lorenzo In Italia ci sono 50.000 fisioterapisti laureati abilitati alla professione Fisioterapista laureato Fisioterapista laureato Fisioterapista laureato Fisioterapista laureato E 100.000 abusivi che esercitano illegalmente la professione Basta abusivismo Basta abusivismo Basta abusivismo Stop abusivismo La tua salute viene prima di tutto Vai da un fisioterapista laureato